E per RK, dall'altra parte del telefono c'è Michele Casella. Ciao Michele, come stai? Ciao Carlo, molto bene. Allora siamo arrivati alla settima edizione del Loop Festival, che ha questo incipit Music to Change Your Mind. Si parla della nuova psichedelia, spiegami. Sì, noi siamo tutti sicuramente affezionati alla psichedelia classica, a quei suoni degli anni 60-70 che per molti rappresentano Beatles, Rolling Stone, Pink Floyd, Jimi Hendrix. Però abbiamo voluto fare un passo in avanti, non solo parlare di quella scena stupenda, spettacolare e mesmerica, ma di vedere quello che sta accadendo oggi. Quindi ci sono 4 appuntamenti per questa settima edizione di Loop, dove noi andremo a scandagliare quello che succede soprattutto negli Stati Uniti, in Europa, in Sudafrica, in Giappone, riguardo tutto quello che è psichedelico oggi. C'è tantissimo, naturalmente, non solo a livello musicale, ma anche a livello prettamente audiovisivo. Quali sono le giornate in cui si svolgerà il Loop Festival? Allora, sono 4 giornate con 4 eventi molto differenti e eterogenei tra di loro. Il primo lo abbiamo subito, giovedì 1 giugno. Il primo giugno viene uno dei giornalisti, per me, più bravi e più capaci di tutta Italia, cioè Francesco Adinolfi, che ha lavorato a Radio Rai, ora lavora a Radio 24 e cura la parte di alias musicale del Manifesto. Sicuramente un grandissimo esperto che, appunto, si occuperà di introdurci alla psichedelia classica. E attraverso una quindicina di video che mostreremo, proietteremo all'arena di Apulia Film Commission in Fiera del Levante, con ingresso gratuito, ci guiderà attraverso questo vero e proprio trip, questo viaggio. E poi, secondo appuntamento, una settimana dopo, sempre di giovedì, l'8 giugno, lo faremo presentando un documentario in anteprima italiana, si chiama, appunto, Trip, della regista Lily Cratemore, che sarà in sala appositamente per presentarlo in Italia e verrà a Bari. Quindi vedremo questo bellissimo videoclip dove lei è stata in tour con alcune delle band più importanti e più rappresentative della nuova scena psichedelica, quindi, per esempio, Spaceman Tree e, soprattutto, Black Angels e tanti altri. E poi ci sono altri due appuntamenti. In uno torniamo al videoclip, condurrò io per mostrare, appunto, l'audiovisivo oggi e la musica di oggi, che cosa ci racconta della psichedelia e poi al finale sarà un live e faremo a Mamma Luna Beach e a Mora di Bari con un'artista molto giovane, ma molto, molto brava, che io ho visto suonare a Utrecht in occasione del Festival Eguessu. Lei farà un set audio e video e quindi sarà la degna chiusura per un festival psichedelico che vuole anche fare aggregazione e, naturalmente, dare un po' di spazio anche alla musica dal vivo. E allora, abbiamo detto, primo giugno, 8 giugno, 22-29, Loop Festival, ovviamente poi tutte le informazioni si trovano facilmente sul web, giusto? Sì, noi abbiamo il sito, naturalmente, loopfestival.it, dove c'è un'aggregazione di tutte queste informazioni, trovate video, biografie, sinossi, trovate anche i nomi dei gruppi di cui parleremo e, in alcuni casi, anche dei registi. E poi, naturalmente, sui social ci potete seguire e, naturalmente, noi abbiamo, diciamo, due serate, l'uno e l'otto giugno, poi ci fermiamo per una settimana per seguire il Medimex, dove comunque di psichedelia, in ogni caso, parleremo. Certo. E quindi, poi, le ultime due settimane di giugno, sempre di giovedì, con gli ultimi due appuntamenti. Per noi sarà un bel mese, anche per te, Carlo. Certo. Mi sto preparando già, ecco, spiritualmente, lo farò anche in modo psichedelico. Bene. Detto questo, Michele, io ti ringrazio, un buon lavoro. Insomma, ci vediamo il primo giugno, allora. Grazie, grazie per questo spazio. Ci vediamo all'arena della Fiera dell'Elevante, all'arena di Apulia Film Commission. Chiaramente, tutti gli appuntamenti sono in ingresso gratuito.